L'utilizzo delle tecnologie quantistiche per la cyber security è in grande sviluppo e va sotto il nome di comunicazioni quantistiche. Questo trend è in grande crescita in diverse regioni ma soprattutto nella comunità europea che ha abbracciato questa tecnologia per la sicurezza del futuro. La regione Veneto ha intravisto questo trend strategico e ha voluto dotarsi di una rete di comunicazioni quantistiche che metta in comunicazione in modo estremamente sicuro rappresentanti delle istituzioni, della ricerca e dell'industria del Veneto. Dopo questa prima fase di stesura di questa rete quantistica regionale ci sarà quindi l'apertura a diversi parti provenienti da diversi ambiti della società veneta e quindi industriali, accademici e istituzionali.